Rappresentano un po' il malessere che ci ritroviamo all'interno del nostro territorio, ma anche la volontà di andare ad occupare probabilmente determinati ruoli fondamentali. Tutti hanno delle idee, tutti hanno dei progetti. Qual è il ruolo di un ordine professionale, importante soprattutto in questo momento di grave crisi economica per il nostro paese e per il territorio? Domanda bella, perché oggi in campagna elettorale si tende a fare voti e si dimentica proprio dei principi essenziali che dovrebbero accompagnare un rappresentante delle istituzioni. L'ordine deve garantire la meritocrazia, deve essere meritocratico anzi, e deve garantire la qualità delle prestazioni professionali di ogni scritto. Per far sì bisogna rendersi conto che bisogna cambiare passo. Cambiare passo significa salvaguardare maggiormente la base, che ormai è il 70-80% che svolge un ruolo, una professione un po' scaduta, visto gli ultimi avvenimenti che ci ritroviamo con i DPCM, con le direttive della Regione Campania, e quindi far sì che i giovani e anche coloro che non si ritrovano in situazioni istituzionali, comandati di una certa rilevanza, possono apprendere, capire e dare il loro nome e la loro competenza a chi ne fa richiesta. È un settore particolare, il vostro, in un ordine, quello di Salerno che raggruppa circa 1.600 iscritti, ma c'è lavoro per tutti davvero e soprattutto quali sono le linee guida della sua lista? La lista è formata con la rappresentanza nel 70-80% di tutti i territori della provincia di Salerno, quindi i candidati rappresentano determinati territori, perché? Un semplice motivo, ogni territorio deve avere un rappresentante per presentare le proprie istanze, le istanze che partono dalla base, ma anche dei territori, i quali molte volte si vedono bistrattati, perché gli eventi importanti e gli eventi formativi che danno la possibilità di acquisire i crediti formativi vengono svolte all'interno della nostra cittadina. È formata la lista, sì, è formata da capigli bianchi a giovani, a dimostrazione che coloro che hanno disponibilità, ma hanno competenza, know-how e modo di poter guidare e quindi far capire ai più giovani qual è il rispetto della reontologia, quale dovrebbe essere l'etica di un ordine professionale, è messa a disposizione con una lista che si chiama più ordine, che sa significare diversi significati. Abbiamo stilato un programma, un programma con pochi punti, ma punti essenziali che rappresentano quello che effettivamente la nostra categoria ha necessità. Quello della formazione, una formazione che noi portiamo avanti già da diverso tempo, io in particolare che sono stato di supporto nel periodo di lockdown con i webinar, per sopperire alle defiance della formazione per i nostri colleghi, cosa che dovremmo incentivare nel prossimo Consiglio creando anche una piattaforma per poter veicolare la formazione attraverso internet, riconoscendo i crediti formativi, ma facendo sì che i nostri iscritti siano sempre pronti e preparati ad affrontare tutte le domande e le questioni che vengono poste non solo dai propri clienti, ma anche dai cittadini, perché l'ordine comunque deve essere un'istituzione semplice, elastica, ma preparata, che si interfaccia in maniera semplice con le istituzioni territoriali, con le istituzioni regionali, ma in particolare con la rappresentanza di genere, i giovani e i cittadini.